Ciao a tutti, questo è quello che rimane di Alessandro, che non è riuscito a finire il cipper di oggi, perché oggi avremo un Hero World, si chiama Bird ed è composto da 50 burpees, 400 metri run, 100 push up, 400 metri run, 150 walk lunges, 400 metri run, 200 squat, 400 metri run, 150 walk lunges, 400 metri run, 100 push up, 400 metri run e 50 burpees, non è in team, buon fine settimana a tutti, a domani.